Pino De Lucia, cooperativa Agora, Crotone, volontariato a 360 gradi, parlando di questo progetto che riguarda la promozione, sviluppo e diffusione del volontariato giovanile in ambito socio-sanitario, cosa puoi dirci di più? Intanto da anni ormai non si fa altro che discutere che il volontariato deve avere anche una sua formazione, quindi non si può pensare di improvvisarsi volontari, in modo particolare nel socio-sanitario dove ci vogliono anche delle professionalità, quindi con questo progetto stiamo cercando di far avvicinare i ragazzi della scuola, oggi qui a Mesoraca 23 ragazzi parteciperanno a una formazione in aula e successivamente faranno delle esperienze nelle comunità locali, successivamente verranno invitati anche a andare a visitare esperienze del centro nord, anche più grandi, per cercare di capire che intorno a noi c'è un mondo di volontari. Mesoraca ha risposto molto bene, più che a Crotone, 23 ragazzi hanno deciso di partecipare a questo corso di formazione e ci ha sorpreso molto perché noi siamo stati abituati sempre a pensare alla città, a Crotone, mentre c'è un mondo nella provincia di Crotone che culturalmente è preparato, ragazzi che hanno dei valori e che vogliono impegnarsi veramente nel sociale. Il volontariato è impegno civile, il volontariato non è una cosa che si fa ogni tanto quando va a qualcuno, il volontariato è una questione di costanza nel servizio perché chi è diverso, chi ha bisogno, ha bisogno sempre, non è che si può pensare soltanto nel tempo libero. Il volontariato c'è sempre? Il volontariato c'è e ci deve essere sempre. Il volontario è volontario perché è dentro volontario, perché ha fatto una scelta, ha fatto una scelta di vita, vuole aiutare i disabili o i tossicodipendenti o i migranti o i poveri. Oggi abbiamo questa nuova situazione, delle nuove povertà, oggi tanta gente non ce la fa arrivare a fine mese, quindi c'è bisogno che i volontari vadano ad aiutare tutte queste persone. Per fortuna ci sono questi giovani che rispondono e questo mi dà tanta speranza. In un mondo così difficile, complicato, dove viene messo alla luce più il negativo che il positivo, avere dei giovani che vogliono impegnarsi nel sociale da volontari ti rallegra il cuore. Vuol dire che abbiamo speranza per un futuro anche migliore. È chiaro che l'ASP di Crotone quando incontra il volontariato riesce a fare anche grandi cose. Sì, noi con il volontariato ci rapportiamo quotidianamente, lo dicevo anche prima nel breve intervento che ho fatto, che noi attingiamo a piene mani, anche per sopperire a quelle che sono le nostre deficienze attuali. Il piano di rientro sta portando in grossa difficoltà all'azienda sanitaria. Quindi noi non soltanto contribuiamo accogliendo nelle nostre strutture tutte le associazioni che intendono fare attività di tirocinio formativo, alludo alla Croce Rossa italiana per esempio, che noi accogliamo nelle nostre strutture, per esempio l'infermiere, il primo del secondo ciclo. Ma anche per quanto riguarda questo progetto, come dicevo prima, quando ho verificato le opportunità che poteva creare non soltanto all'azienda sanitaria, ma le opportunità che poteva avere sul territorio, come diceva, mio tramite, la direzione generale ha accolto da subito la cosa e si è resa promotrice, come dire, gestendo questo fondo di 328 mila euro per tutto il territorio della regione Calabria. Quindi come dicevo prima, mi sono fidato dell'esperienza e della operatività della cooperativa Ogora tramite i suoi operatori. Dottoressa, allora come si propone il comune di Mesoraca di fronte a questo progetto? Nel momento in cui si è aperta l'opportunità di coinvolgere i ragazzi del territorio, ricordando appunto che Mesoraca è comune capofila del distretto sociosanitario che vede cinque comuni coinvolti, abbiamo accolto a braccia aperte questa opportunità, offerteci appunto dalla cooperativa Ogora con la partnership con la ASP e il centro, il CSV Aurora di Crotone. Per fortuna abbiamo una scuola nel nostro territorio che è il liceo linguistico sociopedagogico e con l'immediata partecipazione della preside e dei ragazzi questo progetto vedrà la luce sul nostro territorio che è aperto sempre al discorso del volontariato, esistono tantissime associazioni sul nostro territorio e il comune insieme a queste associazioni cerca di lavorare sempre in sinergia per il bene della collettività.